Via Libera al nuovo corso anche per il Consiglio regionale. Il rinnovamento a 360 gradi viene agevolato dalle dimissioni del capo dell'Assemblea di Palazzo Campanella, Antonio Scalzo. Le sue dimissioni annunciate ieri sono state protocollate questa mattina. Il passaggio in aula alla prima seduta utile del Consiglio regionale. A succedergli sarà il regino Mimbo Battaglia che ha ottenuto oltre 10.450 preferenze alle ultime elezioni regionali. Intanto sulla formazione della nuova giunta intervengono le opposizioni. Dentro e fuori il Consiglio regionale. Strali pesanti, anzitutto da sinistra. Di regione commissariata parra il PSE Cosentino, vicinissimo a Carlo Guccione. Dopo la sanità, il porto di Gioia Tauro, il dissesto idrogeologico, anche la composizione della squadra di governo viene decisa a tavolino. Tuonano i socialisti europei nelle stanze del Nazareno. Il nuovo centrodestra preannuncia un imminente ritorno alle urne. Per la forzista Iole Santelli, il governatore ha ufficialmente bocciato, nominando esterni, le competenze della sua maggioranza. Benché sia stato lui stesso a curare la formazione delle liste nell'ultima tornata elettorale. Infierisce anche il Movimento 5 Stelle. Per i grillini, Oliverio esce cucinato sul piano politico, come pure la classe dirigente del PD calabrese, dagli Adamo Bruno Bossio a Ede Gaetano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.